Ecco, devo fare un accenno a questa iniziativa che si tiene proprio in questo fine settimana nel vicariato di Alzano con le parocchie che ne fanno parte, perché nella stessa sera, 21 dicembre, questo sabato, tutte le chiese parocchiali restano aperte dalle 8 e mezzo di sera alle 23 e in ogni chiesa si tiene un momento o di preghiera o di canto, di musica oppure si visita qualche motivo d'arte della chiesa stessa o dei dintorni, è un po' una sintonia tra le parrocchie del vicariato che direi già di per sé stesso è significativa. Se questo Natale a cui ci prepariamo e a cui vogliamo un pochettino rivolgere il nostro sguardo anche in questa riflessione che facciamo e vuol chiamarci un po' alla comunione, all'unità, crediamo che il Signore sia venuto proprio per creare unità dentro le persone, attorno, credo che anche questa iniziativa abbia un suo senso. La gente ovviamente è invitata poi a passare di chiesa in chiesa, non è possibile, proprio per vivere questo incontro, quasi questa rete di comunione tra le varie parrocchie. È un'iniziativa così che mi pare bella, messa proprio in questa ormai immediata vigilia del Santo Natale. Don Mauro, vigilia del Santo Natale, dovremmo chiederci un pochettino perché c'è un tempo di avvento che ha voluto disporci a questa celebrazione, tempo dell'attesa. Noi diciamo che tante volte le persone oggi o forse di più i ragazzi, ma forse anche gli adulti, non hanno più il senso dell'attendere, il rischio allora è che non sappiano più neanche meravigliarsi. Noi andiamo a vedere e a celebrare un evento grandissimo, almeno un evento maggiore della storia, dove i pastori si meravigliarono, i magi presero strada per andare a vedere questo evento, ma la gente del nostro tempo, noi, proprio perché facciamo fatica a vivere l'attesa e non so quindi l'avvento come l'hai vissuto tu con la tua comunità per esempio, riuscirà ancora a far meravigliare. Oppure noi nella notte di Natale diremo è nato il Salvatore e la gente ci guarderà su e dice vabbè, ormai l'abbiamo sentita, sta storia da tanto tempo e rischia quindi che quella che è l'originalità di questo evento non venga più percepita. Il contesto nel quale viviamo ci può portare a vivere il Natale in modo superficiale, questo senza ombra di dubbio, anche perché poi il Natale si è coperto di tanti altri significati. Proprio qualcuno in questi giorni mi diceva ma che Natale celebreremo perché ci può essere il Natale del consumpismo, il Natale di Babbo Natale, il Natale delle vacanze, il Natale della settimana bianca. Io penso che la Chiesa nella sua saggezza, il fatto che sempre ci educhi a prepararci ad un evento straordinario come è il mistero dell'incarnazione, che è uno dei misteri principali della nostra fede, grazie al tempo dell'Avvento, ecco ci educhi proprio a non perdere quella dimensione che è tipica dell'uomo, la dimensione della meraviglia, dello stupore di fronte a qualcosa che noi non riusciamo in un certo senso a definire o comunque a circoscrivere nelle nostre capacità razionali. Quattro settimane di attesa, più volte nella liturgia, nella preghiera, vieni Signore Gesù. Le nostre Chiese che si sono in questo tempo di avvento spogliate anche dal punto di vista, se vuoi, degli arredi liturgici. Le proposte che la comunità ha fatto alla gente, un maggior ascolto della parola, un'attenzione per esempio al valore del silenzio, le nostre celebrazioni, penso per esempio al cammino che noi come unità pastorale stiamo tentando di fare grazie ai ragazzi e quindi con le loro famiglie, la preghiera che ogni lunedì ci ha visto riuniti insieme noi preti con i nostri ragazzi catechisti nella parola di San Lorenzo. Ecco, sono tutte iniziative, no? Il libretto della preghiera in famiglia, per esempio Antenna 2 trasmette alle ore 20, la preghiera in famiglia guidata da Don Davide. Ecco, sono tutte iniziative proprio per creare, concedetemelo, quella quella suspense, quel sta succedendo qualcosa, sta succedendo qualcosa di grande. Poi è vero la notizia del è nato il Salvatore, magari l'abbiamo sentita tante volte e quindi possiamo correre il rischio di dire ok lo sappiamo, ma creare l'aspettativa, creare l'attesa, accorgerci che questo Dio c'è perché non dobbiamo dimenticarci che il Signore è già con noi quando noi cantiamo in questi giorni il Maranatà, Maranatà vuol dire vieni Signore Gesù, ma vuol dire anche Signore tu sei già qui, quindi il Signore è già presente nella storia, è già presente nel mondo, è già presente nella Chiesa. Il 25 dicembre noi ricordiamo la nascita di Gesù, ma non è che il Signore ritorni a rinascere nella grotta di Betlemme, ma l'attesa alla venuta del Signore c'educa alla meraviglia, allo stupore, ma quella meraviglia, quello stupore che ci fa cambiare noi. Quindi allora, 2000 anni fa, Betlemme, i pastori, gli angeli, i magi, quest'anno, anno 2013, Gesù bussa alla porta della mia vita, della mia vita di uomo, di prete e se c'è questo tempo, se c'è stato e se c'è questo tempo di attesa, di vigilanza, di preparazione, veramente l'evento dell'incarnazione può cambiare la mia vita. Tra l'altro, dobbiamo anche dire che il Natale, per certi versi, è un po' meno propagandato. Non faccio riferimento soltanto al fatto che in tempo di crisi magari sono meno anche le realtà di consumo o di esteriorità, ma anche il fatto sappiamo che nel nostro ambiente, nella nostra cultura occidentale, in questi nostri paesi di pura antica tradizione cristiana, quasi quasi il Natale viene messo all'angolo. Non stiamo qui a fare polemiche, anzi, per niente prendiamo atto di una realtà dove nelle scuole non si può più cantare tu scendi dalle stelle, già bello se si può mettere il segno del presepio, dove nel modo di parlare non si può più dire le vacanze di Natale, ma si parla delle vacanze d'inverno e sappiamo di certi paesi della nostra Europa cristianissima dove il Natale non è più neanche nominato. Sulle agende della comunità europea sono riportate notizie che riguardano festività dell'Islam, festività ebraiche eccetera, ma è scappato via il riferimento al Natale cristiano. Quindi diremmo per un certo verso il Natale cristiano è meno propagandato. Vuoi vedere e penso, Don Mauro, che forse è l'occasione per recuperare un po' di più l'essenzialità e l'originalità di questo evento. Cioè meno scenografia e più concentrazione forse per chi lo vuole su quello che è il senso vero e intenso del Natale del Signore. I segni esteriori, Don Leone, penso che servano. Servano perché noi siamo uomini e abbiamo bisogno anche di questo. Quindi l'albero di Natale, l'alluminare che poi quest'anno sono state ridotte, ringraziamo il Signore per il momento che stiamo vivendo, soprattutto se poi magari i soldi che bisognava spendere per queste cose magari sono stati devoluti per qualcosa di grande e soprattutto per la gente che sta veramente passando un periodo non facile. Però io direi che non dobbiamo neanche demonizzare troppo i segni esteriori. Anch'io in casa mia ho fatto l'albero, ci tengo, lo illumino la notte di Natale e sotto l'albero ci metto il dono più bello che Gesù Bambino. Sulla questione del Natale che non si può più dire, dei canti religiosi che non si possono più fare, nella scuola non si possono più mettere dei segni che richiamino per noi cristiani il vero Natale, io devo dire che in questo caso siamo un po' codardi. Nel senso che il dialogo con le altre religioni o l'accoglienza delle festività delle altre religioni non devono, tra virgolette, farci fare una marcia indietro. Se per noi Natale è Gesù, non dobbiamo aver paura a proporre questo bambinello che ha cambiato la storia. I nostri ragazzi a scuola studiano l'avanti Cristo e il dopo Cristo, per esempio. Quando fanno appunto la storia dell'Europa, la religione penso che abbia dato un enorme contributo, eccetera, eccetera. E quindi non dobbiamo nasconderci dietro a quel perbenismo o comunque a quella capacità di andare incontro alle persone, quindi li accogliamo e quindi perdiamo la nostra identità. Io penso che con molta semplicità, senza fare nessuna crociata, dobbiamo avere il coraggio di riproporre qual è il vero senso della festività natalizia. Il vero senso della festività natalizia è la follia di Dio, la straordinaria bellezza, follia di Dio che decide di farsi uomo per diventare non antagonista, ma alleato dell'uomo e dell'umanità. E quindi recuperare il senso del Natale vuol dire porre anche dei segni esteriori, dei segni che dicano Gesù Cristo, la venuta di Gesù Cristo, la venuta nella mia vita di Gesù Cristo. E poi penso che rimettere al centro Gesù nelle feste natalizie voglia dire per noi cristiani veramente fare la scelta di andare a Betlemme, quindi di non festeggiare il Natale non facendo un passo, ma di muoverci per andare, per vedere, per adorare, per contemplare. Ripeto, perché la mia vita negli atteggiamenti, nelle scelte, nelle relazioni cambia, perché poi io il Natale lo dico nel modo in cui mi pongo in mezzo alla gente e nel modo in cui porto avanti la mia storia. Ecco, tornare a Betlemme. A Betlemme non troveremo delle scenografie, ma troveremo nella semplicità la cosa più bella. Un bimbo che nasce e che tra l'altro misteriosamente viene riconosciuto dai pastori, cercato e adorato dai magi, quindi nella semplicità qualcuno è capace di leggere dentro con gli occhi del cuore, come direbbero i ragazzi o con gli occhi della fede, la presenza del mistero quanto minimo di questa presenza di Dio, di cui appunto noi diciamo è il Salvatore. Mi torna sempre un po' questo fatto di una parola che noi abbiamo imparato dal catechismo, abbiamo sentito sempre annunciata appunto nel Vangelo, la salvezza, Dio viene a salvarci. Però mi piacerebbe a volte, lo si dice quando la gente esce di chiesa dopo aver celebrato il Natale, andare lì a fargli una piccola intervista, ma Dio è Salvatore, Gesù è il nostro, è venuto nel mondo per salvarci. Ma cosa pensi che consista in che cosa questa salvezza? È vero che Isaia durante il tempo di avvento e Gesù rispondendo a Giovanni che manda a chiedere sei tu quello che deve, ha dato dei segnali, ma forse vanno un pochettino interpretati e letti. In concreto, la salvezza dell'umanità, questo Dio che diventa e si fa Salvatore, traducendolo un po' a me, a noi, cosa ce ne viene poi, cosa significa questa salvezza. Ma se abbiamo il coraggio di guardarci con serenità e anche con serietà, noi dobbiamo prendere sempre più coscienza, una cosa che anche qui facciamo molto fatica, perché anche i nostri bambini vengono quasi subito educati ad essere un po' dei piccoli onnipotenti. Ma se io con serenità e con obiettività guardo la mia vita, scopro che innanzitutto che sono un uomo, che sono accompagnato dalle mie fragilità, che nel mio condurre la vita ci sono degli avvenimenti che veramente fanno toccare con mano che io non posso far tutto e non sono tutto. In termini religiosi il peccato sono quei piccoli segni di morte che io scelgo, che io mi do e questi piccoli segni di morte non fanno altro che ricordarmi che vivo qualche volta disorientato dall'amore, da un amore che è più grande, dall'amore umano e a quell'amore che quel bambino è venuto a portare nel mondo. E questi piccoli segni di morte, questi peccati, mi ricordano che io, essendo una creatura, sono un giorno portato a quella realtà che non possiamo non negarla, che è la morte. Il Salvatore è colui che è venuto a dirmi che il mio peccato è vinto, che se io sono storpio nella mia vita, lui è capace di rimettermi in piedi. Se tante volte nella mia vita sono cieco, lui è capace di ridonarmi la vista. Ma questi, chiamiamoli miracoli, che il Signore ha fatto, li ha fatto in previsione del grande miracolo, della salvezza eterna, cioè della consapevolezza che questo bambino è venuto a predicare il regno dell'amore, a farci vedere che il regno dell'amore lo possiamo vivere e a far vedere che questo regno dell'amore vince. È bellissima la connotazione dell'evangelista Luca, lo sentiremo nel Vangelo della Messa della Notte, quando dice Maria lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, che sono gli stessi atteggiamenti che le donne fanno alla morte di Gesù, lo avvolsero in un lenzuolo e lo deposero in un sepolcro, quasi a dire che quel bambino legato al mistero della sua Pasqua è venuto proprio a salvarci da quei peccati che qualche volta schiacciano la nostra esistenza su questa terra, che la sciupano, che la rovinano. Ma queste mille possibilità che il Signore ci dà di rimetterci in piedi, di ricamminare, di recuperare la dignità dell'essere uomo va anche al di là della morte. Questo bambino è venuto a dirmi che Don Mauro, Don Leone, che le persone che ci stanno seguendo siamo chiamati a vivere per sempre e tra l'altro vivere per sempre con lui. Allora non è fuori luogo neanche quella battuta di quel ragazzino che è imbevuto un po' del nostro mondo, il professore dice ma cos'è poi questa salvezza? E lui risponde è non andare in serie B. L'Atalanta vince il campionato se si salva, se non va in serie B, che detto in un altro termine sempre calcistico se non retrocede. In fondo possiamo pensare che Gesù Cristo è salvatore perché aiuta nella nostra umanità non retrocedere per un verso e addirittura a vincere a modo nostro il campionato della storia e della vita con la positività dell'amore, con la certezza appunto che neanche la morte ci inghiottirà. Quindi direi un esempio un po' strano che il ragazzo lì è figlio della cultura o delle letture del suo tempo però a modo suo, salvezza e non retrocedere. Pensando un po' in questo tornare a Betlemme dove c'è questa realtà descritta dal Vangelo e che noi riproponiamo poi nel nostro presepio, mi viene a volte da pensare, avevo scritto una nota una volta sul il bue e l'asino, se ci sono due che guardano la scena perché stanno dentro, guardano fuori dalla grotta e sono lì a scaldare come usiamo dire, ma anche guardano in giro. Questo bue e asino nella realtà nostra, nel presepio di questa nostra umanità, di questo nostro tempo, dei nostri paesi. Chi vedono arrivare? Cosa vedono in giro? Allora guarda Don Leone, con molta schiettezza la cultura nella quale viviamo, lo sappiamo, è una cultura difficile, fragile, stiamo perdendo i valori, tante famiglie si stanno disgregando, qualcuno ci ha chiamato una cultura, una società liquida, i grandi sociologi. A me piace, mettere gli occhi dell'asino e del bue e vedere davvero Don Leone nelle nostre comunità tante persone che con la loro semplicità però stanno pian piano arrivando a Betlemme. È vero, ci sono molte distrazioni, c'è qualcuno che vivrà il Natale come una grande festa di famiglia dove ci si scambiano i regali, che ci sta pure quello, però io vedo nelle nostre comunità davvero il ritorno davvero di tante persone che hanno voglia, che desiderano ascoltare, accogliere una parola che cambia la vita. Non saranno tante, ma mi sembra che neanche ai tempi di Gesù non erano tantissimi, però persone che stanno prendendo in mano la loro vita e direi si stanno facendo anche delle domande sul senso del vivere e anche sul senso della propria fede. Vedi qualche volta, certo non è la giornata mondiale della gioventù, però nelle nostre messe, chiamiamole di casa, della domenica, vedi qualche giovane che magari era un po' di tempo che non vedevi più, che viene, che partecipa, che ha voglia di incontrare il Signore. Quindi mettendo gli occhi dell'asino e del bue vedo molta distrazione, vedo persone che vivranno il Natale come una bella festa di famiglia, ripeto, ci sta, però mi piace vedere anche quelle persone semplici, quelle persone un po' come i personaggi del presepio, che magari in mano non hanno niente da offrire, che però si muovono, che vengono, che hanno sete di verità, che hanno voglia davvero di guardare negli occhi a questo bambino e di lasciarsi interpellare da un neonato che ti sa parlare molto più che un professore di università. Ecco, mi piace vedere e apprestarmi a vivere il Natale con questa profonda convinzione. D'altronde se guardiamo il presepio che viene costruito, ed è bello che in questi giorni nelle case, nelle chiese, fuori anche si fa il presepio, in fondo le strade vanno tutte nella stessa direzione, verso la grotta, che poi vengano dal monte o vengano dal piano, facciano dei giri un po' storti, eccetera, credo che è indicativo del fatto che in fondo in un modo o in un altro lo sguardo più o meno attento, più o meno consapevole, più o meno voluto però va nella direzione. Prima o dopo, in un modo o in un altro, il volto di Gesù Cristo lo incrociamo tutti. Ecco, l'importante è che quando arriviamo lì abbiamo anche noi forse l'animo dei pastori, l'animo dei magi, per quello che io dico, che è bello pensare che il presepio va fatto, cioè va costruito, perché nel costruirlo si fanno tante riflessioni, il mettere le varie statuine del presepio, credo che ci aiuti a capire tante cose della nostra fatica, ma anche della nostra ricerca di fede, fino a quando poi ciascuno può anche chiedersi, ma io nel presepio dove mi metto? Adesso io non voglio fare la domanda al Don Mauro perché chiaramente quello è vicinissimo al bambino, è lì tra Giuseppe e Maria eccetera, ma potremmo anche chiederci chiunque costruendo il presepio e quindi vivendo questa vigilia ormai del Natale può dire, ma io dove mi metto in questa umanità che fa presepio attorno a Gesù? Se me lo concedi, innanzitutto non è vero che sono vicino tra Giuseppe e la Madonna, anch'io ho parecchia strada da fare, però se me lo concedi proprio brevemente una piccola storiella che immancabilmente la vigilia di Natale mi salta fuori, quindi chi magari seguirà la messa appunto del sabato sera, magari me la sentirà ridire, in un presepio tutte le statuine erano in movimento per andare verso la grotta e tutte le statue avevano qualcosa da portare al Signore, quindi c'era chi portava il latte, chi portava la legna, chi portava il formaggio e così via, ma c'era una statuina che non aveva in mano proprio niente, questa statuina era una donna, non ne abbiano male le donne e siccome era abitata un po' dalla curiosità, dice vabbè io non ho niente da offrire a questo bambino che pare sia il salvatore del mondo, però per curiosità vado a vedere. Questa statuina arriva alla grotta, si nasconde e vede la scena, no? Maria, Giuseppe, il piccolo Gesù che ricevono questi doni da parte di tutte le statuine del presepio, ma a un certo punto la Madonna si accorge di questa statuina, la chiama vicino a sé e la statuina incomincia a dire guarda io non ho proprio assolutamente niente, mi vergogno, non ho niente e la Madonna, grande donna, l'abbiamo incontrata nel nostro cammino in preparazione al Natale, dice per fortuna che non hai niente, perché avendo le mani vuote tu puoi accogliere un attimino, puoi tenere in braccio il mio bambino Gesù, mentre io ricevo i regali. Ecco mi piacerebbe vedermi così e vedere così tante persone, non con la presunzione di dire Signore ti porto, Signore ti faccio, quello che riusciamo a fare di bene facciamolo, il male purtroppo ci accompagnerà sempre, io dico sempre che arriveremo alla fine della nostra vita, se avremo un filo di voce dovremo dire Signore e pietà, ma nello stesso tempo il bene che possiamo fare sempre tanto, davanti al Signore a mani vuote per avere il dono per eccellenza che è Lui. Mi pongo nel presepio così. Bene, la notte che si illumina, si illumina di questa presenza, si illumina dell'amore di Dio che viene tra di noi, si fa solidale con noi al punto da diventare uomo, dal condividere tutto della nostra vita e della nostra storia. Quella notte in cui possiamo intravedere meglio il nostro cammino, possiamo anche trovare il calore in certi tempi di freddo che ci prendono tutti. Abbiamo la certezza che il Signore non ci lascia al buio. E allora il nostro augurio per il Natale, è l'augurio per tutti voi che ci avete seguito, tutti quelli che solitamente accompagnano questa nostra riflessione settimanale. È l'augurio che facciamo ovviamente ad Antenna due e a tutti i collaboratori, Don Mauro a te e a tutti quelli che collaborano anche in questa nostra rubrica. È un augurio a ciascuno di voi, alle nostre case, alle vostre famiglie, alle nostre comunità. Un augurio che vorremmo col cuore del Signore allargare al mondo intero. Dice appunto pace agli uomini che il Signore ama. E siccome il Signore ama tutti, vorremmo che la pace del Signore abiti il cuore e la casa di tutti. Buon Natale!